perché questa è casa vostra è casa vostra a me siamo già e allora vogliamo salutare anche coloro che ci stanno seguendo in rete un voglio fare un abbraccio e un applauso e un abbraccio anche alla cara anna ad anna può darsi che ci sta seguendo ciao anna ti aspettiamo presto sì a me allora vogliamo mettere giovanni 21 vogliamo aprire le nostre bibbie giovanni 21 è già pronto lo facciamo di qua allora dopo queste cose gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mar di tibedriade e si manifestò in questa maniera simon pietro tommaso detto di idimo natananele di canna di galilea i figli di zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme qui vediamo che i discepoli di cui parla giovanni sono sette quindi non sono tutti tre di questi sicuramente sono pescatori simone e poi i due figli di zebedeo allora andiamo avanti un attimo allora simon pietro disse loro vado a pescare essi gli dissero veniamo anche noi con te allora fermiamoci un attimo vediamo simon pietro disse loro vado a pescare non ha detto andiamo a pescare qui vediamo già una differenza sul comportamento di pietro qualche tempo prima pietro avrebbe detto venite con me andiamo a pescare un po il capo qua invece dice io vado a pescare sono gli altri che hanno riconosciuto in pietro hanno detto vabbè veniamo con noi veniamo con te quindi vogliono andare con pietro pietro non è non ha detto loro venite fate pietro ha detto io vado a pescare e loro hanno deciso di andare con lui uscirono e salirono sulla barca quindi erano insette sulla barca e guardate questa questa frase e quella notte non presero nulla quindi tutta la notte si affannarono gettavano la rete la ritiravano e non c'era niente voi immaginate questi pescatori di di professione buttavano la rete perché si va di notte in genere a pescare e non prendevano niente provavano e riprovavano provava quindi freddo umido stanchezza erano insette magari si davano il cambio però non prendevano niente assolutamente niente andiamo avanti un attimo quando già era mattina quindi tutta la notte affannati a lavorare con tutte le loro forze stanchissimi infredoliti affamati quando già era mattina gesù si presentò sulla riva i discepoli però non sapevano che era gesù allora qui vediamo una cosa vedono una persona sulla spiaggia ma non sanno chi è non lo riconoscono e questo mi ricorda maria maddalena perché maria maddalena come voi sapete è stata la prima persona a vedere gesù risorto però maria maddalena non l'ha riconosciuto eppure era viso a viso non l'ha riconosciuto ha detto scusi se lei sa dove hanno messo il corpo del signore me lo dici perché è stato solo quando gesù ha parlato e ha detto maria solo allora lei l'ha riconosciuto e l'ha riconosciuto per la parola e questo mi ricorda mi fa tornare ancora indietro al buon pastore a cui le pecore sentono la voce lo riconoscono anche in questo in questo caso allora i discepoli qui sappiamo che non sapevano che era gesù vedono un scusate il termine un pinco pallino sulla spiaggia vogliamo andare un attimo avanti allora gesù disse loro figlioli avete del pesce gli risposero no perché ovviamente stanchi affamati non sapevano dice giustamente non aveva preso niente che figuraccia pure no per dei pescatori vogliamo andare un attimo avanti ed egli disse loro state attenti gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete allora qui un pinco pallino dalla spiaggia non sa chi è e dice a dei pescatori gettate a destra troverete del pesce scusate ma quando mai no questi pescatori noi siamo pescatori ma viene uno così dice gettate troverete però guardate che guardate che cosa fanno che cosa fanno loro essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci che cosa hanno fatto pur non sapendo chi era anche cosa hanno fatto hanno obbedito se fosse stato prima di conoscere gesù sicuramente non l'avrebbero fatto però tutti gli insegnamenti di gesù erano in loro nel loro cuore nella loro mente e che cosa hanno fatto subito pur non sapendo che era gesù per loro era un signor nessuno hanno gettato la rete e il risultato è stato questo non potevano più tirare su la rete per il gran numero di pesci non erano tre non erano quattro non erano cinque erano sette su quella barca e non riuscivano a tirare su la rete andiamo un attimo avanti allora il discepolo che gesù amava disse a pietro chi è giovanni no discepolo prediletto giovanni piccolino insomma io lo chiamo un po il piccolino perché era un po il cucciolo della della congrega no e allora il discepolo che gesù amava disse a pietro è il signore velocissimo pinco pallino ha detto buttate la rete pesce cambiando l'ordine degli addendi ha detto pinco pallino gesù punto veloce giovanissimo quindi veloce pietro simon pietro udito cioè il più anziano se vogliamo pietro più lento udito quindi ha dovuto aspettare che lo dicesse giovanni udito che era il signore si cinse la chiaramente erano senza senza il vestito addosso si mise un vestito addosso e lascio tutto si buttò in mare perché era nudo e si gettò in mare per andare da gesù quindi noi vediamo adesso due atteggiamenti diversi e fare una domanda dopo il primo è quello di pietro abbiamo pietro che gesù basta non mi interessa più niente si butta in acqua e a nuoto raggiunge gesù va sulla spiaggia gli altri che fanno gli altri rimangono sulla barca e cercano di tirare sulla rete con i pesci allora io dico vi dico pensateci un po secondo voi quale può essere può essere a questo punto diciamo è solo un'ipotesi che facciamo no quale può essere l'atteggiamento più giusto quello di pietro o quello degli altri sei apostoli no tutti e due hanno ragione lui è andato verso gesù perché sapeva che comunque gli altri sarebbe occupati di quello che gesù aveva detto gesù ha detto gettate la rete prenderete dei pesci prenderete dei pesci quindi una benedizione da parte del signore quindi non hanno sbagliato nel tenere la benedizione del signore sarebbe stato un peccato se gesù ha detto gettate prenderete scusate anche loro avevano ragione quindi non era sbagliata né la prima né la seconda ipotesi ora se vogliamo andare un attimo avanti ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra circa 200 cubiti sarebbero circa 100 metri più o meno trascinando la rete con i pesci quindi a questo punto vedete che non riuscivano a tirarla su quindi erano costretti con tutta la barca a trascinare la rete piena di pesci allora fermiamoci un attimo e vediamo prendiamo questa questo esempio e portiamolo un po più diciamo a livello a un livello più pratico questi vediamo questi discepoli che decidono di andare a pesca prima cosa portiamo questa cosa come quando noi usciamo e diciamo beh adesso trovo questa persona e voglio parlare di gesù no quindi evangelizziamo che fanno vanno e tutta la notte con la loro forza con le loro forze tentano di prendere pesci risultato zero non prendono niente tutta la notte però nel secondo caso noi abbiamo che gesù il pincopallino di prima viene e dice è lì che dovete gettare la rete e prenderete che hanno fatto hanno obbedito hanno buttato la rete e hanno preso un sacco di pesci quindi noi vediamo che quando noi vogliamo agire da soli con le nostre forze quando ci mettiamo in mente si adesso parlerò del signore adesso esco faccio il terremoto risultato zero ma quando il signore è con te ti accompagna ti parla sta nel tuo cuore non saranno tutti magari ti dirà quella persona ha bisogno di te quella persona avrà bisogno di una parola di conforto di una preghiera quella parola può può cambiare tante cose a volte sono persone che sono talmente disperate noi non lo sappiamo ma sono talmente disperate che sono pronte a fare dei gesti particolari e a volte basta una una sola parola di conforto una piccola parola di conforto e le cose cambiano salviamo una vita senza magari saperlo perché non lo sappiamo magari quella persona torna indietro ora noi vediamo quindi due le due cose i due atteggiamenti il primo fare semplicemente una cosa secondo la noi diciamo secondo la carne secondo le nostre forze e la seconda invece seguire gesù seguire gesù non andare avanti a gesù nel senso di dire tu segui noi no è gesù che è gesù che ci guida e ci dice cosa fare se possiamo andare un attimo avanti appena scesero a terra videro della viderola della brace e del pesce messovi su e del pane quindi noi abbiamo pietro che è arrivato prima sarà stato subito da gesù e subito dopo dopo alcune decine di minuti arrivano tutti gli altri tracinando quindi la barca arriva sulla sulla riva tracinano quindi la rete e cosa vedono all'improvviso cosa vedono vedono della brace un po di pesce già che sta arrostendo e qua dice del pane tre cose sì appunto grazie sorella vedono queste tre cose il signore aveva già cominciato a preparare qualcosa poi andiamo un attimo avanti gesù disse loro portate qua dei pesci che avete preso ora quindi il discorso fatto prima in base a questo portate qua dei pesci che avete preso ora a valore a quello che abbiamo pensato prima cioè non era necessario lasciare la benedizione di dio ma bisognava portarla perché tanto è vero che il signore dice portate qua dei pesci che avete preso ora vai avanti un attimo simon pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di cento cinquantatré grossi pesci cento cinquantatré ovviamente all'epoca non è che stavano proprio il bilancio ovunque quindi i pesci si contavano insomma prima di venderli no quindi poi questo fatto di cento cinquantatré non cento cinquantuno cento cinquanta cento venti c'è un numero proprio preciso cento cinquantatré qui giovanni probabilmente era proprio era lì era lì li ha visti li ha contati ha visti per dire che erano cento cinquantatré non può e non può essere una cosa a caso erano cento cinquantatré e benché ce ne fossero tanti la rete non si strappò allora altra cosa questa è un'altra un'altra cosa bella erano tantissimi non riuscivano a tirare sulla rete immaginate tirare sulla è impossibile tirarla addirittura sulla riva si rischiava di rompere però chi ha detto di lanciare la rete dall'altra parte Gesù e se Gesù ha detto fate così secondo voi la rete si poteva rompere altrimenti non sarebbe stata una cosa a che serviva no non poteva rompersi la rete e non si sarebbe rotta e infatti non si è rotta la rete non si strappò con Gesù tutto ciò che facciamo anche se impossibile diventa possibile andiamo un attimo avanti Gesù disse loro venite a far colazione la prima cosa che ha detto Gesù quando sono arrivati gli ha detto venite a fare colazione ora vedete un attimo vedete un attimo questi questi uomini questi pescatori che si sono affannati tutta la notte si sono stancati avevano sbagliato perché avevano fatto tutto con le loro forze eppure Gesù che cosa dice la prima cosa che dice non dice bravi potevate aspettare che ve lo dicesse io no invece di stancarvi tutta la notte no cosa dice la prima cosa che dice praticamente venite a far colazione avete fatto quello che vi ho detto ora venite venite a mangiare non gli ha detto nient'altro venite a mangiare cioè gli ha dato qualcosa per sostentarli e in questo caso noi vediamo anche la provvidenza tu hai fatto come ti ho detto io ti do quello che ti serve avevano fame erano stati tutta la notte a lavorare arrivano la fame tanta c'è insomma tutti noi quando ci alziamo ci abbiamo fame diciamo la verità questi avevano lavorato tutta la notte immaginiamo che fame che avevano e il signor gesù cosa ha detto venite venite a mangiare venite a far colazione nessuno dei discepoli o sa va a chiedergli chi sei perché dice sapendo che era il signore era inutile domandare chi sei sapendo e avendo visto come giovanni aveva fatto quel semplice ragionamento pinco pallino ha detto buttate la rete noi abbiamo buttato la rete abbiamo preso il pesce tanto pesce quindi uno più uno più uno no questo è gesù basta non non si discute per cui sapevano che era il signore puoi andare un attimo avanti gesù venne prese il pane e lo diede loro e così anche il pesce possiamo andare un attimo avanti sì questa era già la terza volta che gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti allora in questo brano mi sembra che era e finisce qua il brano vero mi sembra sì 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 finisce qua il brano poi allora in questo brano noi vediamo e avevo fatto l'esempio prima di fare le cose senza il signore di fare le cose con il signore fare le cose senza il signore zero non riusciamo o almeno quello che possiamo fare così poco rispetto a tutti gli nostri sforzi che possono essere grandissimi vi posso dire che io mi ricordo quando lavoravo in una biblioteca e cercavo di fare più di quello che per carattere cercavo fare il più di quello che potevo cioè non mi lascio non mi lasciavo cinque minuti di tempo sempre a lavoro sempre lavoro poi quando invece dicevo mi mettevo un po in preghiera eccetera poi mi rendevo conto che io facevo di più quando mi mettevo pure in preghiera che non quando invece stavo continuamente a lavorare questa è una se l'ho sperimentato io personalmente tantissimi anni fa cioè facendo le cose con il signore è più è più c'è meno sforzo c'è meno molto meno sforzo cioè praticamente il diciamo il grosso lo fa il signore diciamo la verità noi siamo qua facciamo quello che possiamo il resto lo fa lui l'impossibile il dio dell'impossibile lui non siamo noi insomma questo il il dato di fatto questa era già la terza volta che gesù si manifestava allora terza volta la prima volta era abbiamo detto prima con maria maddalena che ha riconosciuto gesù solo per la voce il buon pastore che conosce le sue pecore le pecore riconoscono la voce del pastore che le chiama e dice fate così e infatti noi vediamo che questi pescatori pur non conoscendo gesù che cosa hanno fatto hanno buttato la rete qualcosa dentro di loro qualcosa dentro di loro deve essere scattato perché hanno buttato la rete scusate non è che viene uno e dice fai così ciao io so pescatori io so cioè questo è campo mio so tutta la notte ho lavorato è impossibile no c'era qualcosa c'era qualcosa dentro di loro che gli spinse a buttare la rete quindi quando noi ci mettiamo nelle mani del signore il risultato è sicuro è sicuro è matematico cioè non dobbiamo fare sforzi incredibili a volte ci prepariamo ci abbiamo questa questa fortezza mentalità chiamo la fortezza mentale perché questa purtroppo è una fortezza mentale così che ci hanno insegnato così che diciamo gli insegnamenti a scuola gli insegnamenti del della della televisione dei giornali dei libri ci insegnano che tu devi fare programmare devi fare così 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 per avere questo ma così non è con il signore con con il signore dobbiamo abbattere queste fortezze abbatterle completamente e cominciare a dire signore che cosa vuoi che io faccia signore come vuoi che io mi muova come vuoi che io mi muova a volte il signore parla parla direttamente cioè nel tuo cuore tu senti che questa cosa è giusta la fai così altre volte tu la fai dopo aver pregato tu la fai e vedi che quella giusta anche se non ne senti sembra non hai sentito la voce il signore ti mette nelle condizioni di fare la scelta giusta quando tutti dai a lui ti fa fare la scelta giusta sempre allora qui abbiamo le due due diverse disposizioni d'animo una è l'obbedienza e questa è l'obbedienza è un obbedienza che per il mondo è un'obbedienza cieca un'obbedienza dice ma dov'hai che stai facendo ma a livello spirituale l'obbedienza e l'umiltà vanno insieme sei umile sei ubbidiente è una cosa che va insieme quanto sei umile sei ubbidiente quando sei orgoglioso sei disubbidiente nessuno ti può dire niente quando sei orgoglioso se qualcuno dice qualcosa scatti perché così sei stato sei stato addestrato diciamo così è brutto dire addestrato ma è quello che in effetti è quello che che succede molti di noi perché la parola di dio dice rinnovate la vostra mente con la parola cioè la parola quando entra nella nel nostro cuore io ho detto un'altra volta che un rabbino diceva che la parola doveva andare proprio nelle parti più profonde del nostro cuore del nostro cuore doveva mettere radici stare lì perché di lì avrebbe gestito il tutto la parola di dio allora quando noi abbiamo la parola diventiamo umili è un meccanismo è un meccanismo uno se ne accorge a distanza di tempo c'è possibile che io in questa stessa situazione sei mesi prima avrei reagito in una maniera obrobriosa e adesso invece non solo non ho reagito ma ho benedetto addirittura questo significa cosa che la tua umiltà se sei diventato più umile è riconosciuto il signore e quindi l'umiltà e l'obbedienza portano certamente in avanti a livello spirituale mentre le persone che non riescono perché ci sono persone sono tante che non riescono ancora a debellare questa parte perché si stanno in chiesa ma come escono fuori tornano di nuovo quelle fortezze rimangono non riescono a debellarle è come se fossero già connaturate in loro non riescono proprio a staccarsi da questo modo di fare da questo modo di pensare quindi in questo in questo in questo piccolo in questo piccolo in questa piccola parte del capitolo quindi abbiamo visto l'obbedienza e l'umiltà dei dei discepoli questi che gli apostoli che cosa hanno fatto hanno ubbidito e il signore li ha premiati semplicemente non c'è non c'è niente di di eclatante il signore dice tu ubbidisci e io provvedo non ti preoccupare noi abbiamo avuto qui l'evangelista a scopo perché allora loro non chiedono denaro non chiedono denaro a nessuno però vanno avanti sono 15 anni mi pare qualcosa del genere che vanno avanti e portano la parola di dio in tutto il mondo semplicemente perché si affidano al signore preparano si preparano in preghiera attenzione alla prepararsi in preghiera se devono fare qualche cosa e a di sa anche a distanza di mesi quindi lo fanno due tre quattro mesi prima così per venire in puglia si erano messi in preghiera già mesi prima quindi con tutti per venire in puglia perché hanno sentito che qui in puglia c'è un c'è un qualcosa che sta per esplodere c'è un qualcosa che sta per venire fuori quindi la puglia se vogliamo è fortemente benedetta in questo in questo periodo c'è qualcosa che sta venendo fuori probabilmente devo dire che ci sono pastori che si stanno muovendo e si stanno veramente come dire facendo guidare dallo spirito santo e in qualche modo questo già pure me ne era accorto pure io sentivo questa cosa che c'era qualcosa di nuovo io lo dicevo alla sorella claudia dicevo sai claudia qua c'è qualcosa che deve esplodere qualcosa che di nuovo che deve deve venire fuori perché sento che c'è qualche cosa di nuovo e questo qualcosa di nuovo sarà nella nella nostra regione quindi a questo punto che cosa vogliamo fare con con il signore il signore ci dice buttate la rete a destra cosa vogliamo fare dipende da noi che cosa vogliamo fare possiamo essere ubbidienti umili e ubbidienti perché dall'umiltà del livello ubbidienza oppure essere orgogliosi e dire io non vedo niente non sento nulla non quindi sta a noi adesso decidere quale strada prendere se fare come discepoli buttano la rete anche anche se non sapevano che era gesù in questo caso l'ubidienza tensione perché adesso forse è un po un po più pesantina l'ubidienza per esempio se il pastore mi dice umberto io sono fuori adesso tocca a te la parola mia è ubbidisco punto faccio come come garibaldi no ubbidisco punto faccio così e quindi noi possiamo decidere di fare in questa maniera obbedire anche a chi il signore ci ha messo a condurre il pastore colui che conduce me quindi io obbedisco al pastor naturalmente biblicamente parlando non è che il pastore mi va a dire umberto vai a rubare umberto a rubare no se è biblico va bene se non è biblico non ci sta ok però è ovvio che per essere benedetti quando il signore dice fate una cosa e lui la fa così il pastore dice fate una cosa noi la facciamo e ne vediamo i frutti ne vediamo i risultati nella nostra piccola comunità io la chiamo piccola forse perché siamo molto uniti molto stretti no e cioè noi abbiamo avuto delle benedizioni che io non me le so spiegare io non me so spiegare c'è un pastore che venda fuori e dice voglio benedire vi do un pulmino scusate a me ma pare strano a me pare strano e questi pastori questi evangelisti che comunque sono evangelisti di un certo livello qui non stiamo parlando di un pastore che sta a 15 20 30 50 chilometri qui stiamo parlando di evangelisti che sono stati in giro per il mondo con altri evangelisti sotto altri evangelisti che conoscono che praticamente è una vita che che fanno campagne evangelistiche con migliaia di persone non con decine con centina ma con migliaia di persone io sto parlando per esempio di in questo caso non l'abbiamo ancora avuto bonchi colenda e sto parlando appunto di scuoppo claudio frizzon anna condia sono tutti più o meno queste che sono sono evangelisti di un certo di un certo livello certo non sono super uomini sono solo persone che hanno detto al signore sono pronto eccomi qua dimmi cosa devo fare e lo faccio e lo hanno fatto non hanno fatto bonchi lo ha fatto per 40 anni si è fatto da dal sud africa fin sopra fino in egitto tutta la vita però il signore l'ha usato tantissimo perché lui dall'inizio andava con una fisarmonichetta in sud africa lui e la moglie questa specie come viene definito ragazzone biondo no con gli occhiali e questa persona con la con la sua fisarmonichetta cantando canzoni alla fine è arrivato fino in in egitto e ha evangelizzato e ha portato a cristo quindi non solo evangelizzato ha portato a cristo con nome cognome la bellezza di 80 milioni di africani dico 80 milioni non qualche migliaio 80 milioni e per esempio questo bonchi è talmente riconosciuto come una persona corretta seria che è stato l'unico ad essere chiamato adesso non ricordo se era era un paese africano in cui c'era una guerra civile fu chiamato apposta per fare una campagna evangelistica in quel paese e proprio grazie a quella campagna evangelistica la questa guerra civile si è fermata lui era così conosciuto e lui era uno dei diciamo dei numeri 1 sulla lista di dei terroristi di al caida sì 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 era il numero uno quindi insomma è una persona abbastanza ora che cosa vogliamo fare che cosa volete fare che cosa vorreste fare non vi va di seguire l'esempio di seguire di fare come loro lanciare la rete e prendere non vogliamo fare una bella pesca di quelle di quelle a me basta uno eh non è che per forza non sei tanti però non mettiamo limiti al signore no allora alziamoci fortemente e sempre con la parola di dio cerchiamo di di darci a lui lasciando da parte quelle carnalità quelle cose quelle quelle piccole cose quelle piccole a martina chiamano le scorzette non so come le chiamate voi per dire quando ci sono quelle piccole cose che no se c'è fra due persone c'è quelle cose siamo scorzette vediamo la martina gli altari piccoli altarini no quella togliamoli via via non ce ne sono più diamo l'ora e gloria al signore solo a lui solo a lui diamoci a lui diamo il nostro cuore la nostra mente diamo tutto a lui diamo